Ogni anniversario serve guardare indietro, valutare la strada che si è fatta per trovare ragioni per il futuro. In questi 18 anni, perché in realtà il progetto di Sisa è stato pensato 18 anni fa, strada ne è stata fatta moltissima, tanto che nel giro di qualche mese la Croazia sarà membro dell'Unione Europea. È una cosa che 18 anni fa era impensabile, era un sogno, era un pensiero molto poco popolare in un'area devastata dal conflitto e oggi è realtà. Credo che anche guardando avanti lo scopo, l'obiettivo delle agenzie di democrazia locale sia tramutare in realtà, in fatti concreti, quello che oggi sembra impossibile realizzare.